Oggi prepareremo insieme degli squisiti spiedini di zucchine grigliate, un contorno leggero e aromatico impreziosito da erbe e una nota di parmigiano. Per questa ricetta avremo bisogno di due zucchine grandi, olio extravergine di oliva, sale, pepe nero, origano secco, succo di limone e, a scelta, parmigiano grattugiato e erbe aromatiche come rosmarino o timo. Cominciate lavando le zucchine e tagliatele a rondelle dello spessore di circa mezzo centimetro. Mettete le fette in una ciotola e conditele con olio extravergine di oliva, sale, pepe, origano e un po' di succo di limone. Mescolate bene per far insaporire ogni fetta. Fate scaldare una griglia o una padella grill sul fuoco. Infilzate le rondelle di zucchine su stecchi per spiedini, alternandole con erbe aromatiche se desiderate. Grigliate gli spiedini su ogni lato, fino a quando non saranno leggermente dorati e morbidi, per circa 2-3 minuti per lato. Una volta pronti, potete servirli caldi e, se lo desiderate, con una sfolverata di parmigiano grattugiato. Questa ricetta è molto versatile. Puoi aggiungere altri ingredienti agli spiedini, come pomodorini, cipolle o pezzi di formaggio adatti alla cottura. Se volete rimanere aggiornati su altre deliziose ricette, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e visitare il nostro sito web per tante altre idee golose.